Le regioni di Estra, la multiutility energetica dell'Italia centrale, tra le più virtuose in Italia per i consumi energetici, lo rileva il rapporto sulla povertà energetica confezionato dall'Istituto Piepoli per conto di Estra. 16 km di rete per collegare 600 imprese ai servizi avanzati della connessione ultraveloce, installata la Estracom nella zona industriale di Grosseto con il sistema che porta la fibra dentro le aziende. Un nuovo extraforum inaugurato a Chiusi, il palasport della città in provincia di Siena, ha preso il nome della multiutility energetica in virtù dell'accordo tra il comune e il gruppo Estra. Wi-Fi libero e gratuito a signa, i cittadini del comune fiorentino possono connettersi senza limiti di tempo a 5 punti Wi-Fi installati sul territorio comunale da Estracom, la società delle comunicazioni di Estra.